Facciamo visita al castello del borgo medievale di Albafuci, in se città di più ripetito quello che so. Vediamo quello che si può vedere. L'ultima volta qui era pieno di rovi, adesso forse qualche cosa è stato ripulito. Sì, sì, è stato ripulito, hanno fatto una bella pulizia, veramente adesso molto bello, visitabile. Ecco qui, entriamo dentro e vediamo cosa si vede. Beh, qui devono portarne ripulite. Qui devono portarne ripulite perché è molto grande, però qui c'è solo l'accesso per le antenne. Ecco perché era ripulito lì. Però è un peccato, è un vero peccato. Una simile aree archeologica, abbandonate le lingue, guardate, qui c'è tutto frascato. Eppure storia. Guarda, una motosega così ci vuole pulire qui, non ci vuole nulla. Non posso entrare perché ci sono i rovi. Guarda, 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 guarda